Da quattro lunghi anni si è in attesa della rimozione del terriccio in argilla che ha invaso larga parte della careggiata della complanaria monte della setaria 106 onica a Rocca Imperiale. L'arteria serve una zona con insediamenti ricettivi, i cui operatori sono costretti a convivere con le limitazioni e il disagio determinato dal cedimento di un costone nel 2018, problemi di transito e soprattutto di sicurezza. Da quel che emerge si tratta di un altro intervento pubblico che ripropone la problematica del mal di burocrazia con un fastidioso scaricabarile tra le parti interessate che si trascina da lunghi anni. Tra la provincia e il comune di Rocca Imperiale, in carico ormai già da sette anni, non si vuole, non si riesce a risolvere una situazione non soltanto molto pericolosa per i diversi passanti, per quella viabilità che ricordiamo è una complanare della 106 e soprattutto una situazione che può mettere in pericolo la salute ma anche la vita delle attività ricettive, delle attività produttive che per essere raggiunte necessitano di percorrere quella carrabilità, quella via. Quindi è sempre il solito problema. La strada è di competenza provinciale, il cui ente ha già destinato la posta di finanziamento pari a 400.000 euro in un sopralluogo effettuato nel 2020. Alla presenza del presidente della provincia di Cosenza, Nello Iacucci, si assumeva l'impegno che entro gennaio del 2021 si sarebbe affidato il formale incarico per la progettazione che entro la primavera si procedeva all'affidamento della gara. La frana è ancora lì e di interventi ancora nulla. Ma non c'è mai poi un impegno, una messa in atto di un'azione concreta e anche veloce quantomeno di rimuovere la massa di frana che è visibile già dalla 106.